Avevano cercato di approfittare dell'assenza dei proprietari, ma il loro piano è andato in fumo, in quanto sono stati sorpresi dai carabinieri. E dunque per due rumeni di 37 e 31 anni è scattato l'arresto per furto, con applicazione degli arresti domiciliari a seguito dell'udienza di convalida. Secondo la ricostruzione investigativa, i due indagati avevano preso di mira un appartamento nel centro di Grotte. I due ladri si erano introdotti all'interno e avevano iniziato a rovistare in giro per casa la ricerca di oggetti di valore e denaro, iniziando a mettere insieme un bottino fatto di gioielli e anche di altri oggetti. In quegli istanti però un equipaggio dei carabinieri che stava pattugliando le vie del centro ha notato dei movimenti sospetti e anche che una delle finestre dell'abitazione era aperta e quindi hanno deciso di controllare che fosse tutto a posto. Ed è stato così che gli investigatori hanno sorpreso i due malviventi, entrambi braccianti agricoli, con le mani nel sacco. Di conseguenza è scattato l'arresto con applicazione dei domiciliari, poi confermati come detto dal giudice al termine della convalida.